Resterà in carcere il 59enne che lo scorso lunedì aveva accoltellato un collega negli uffici della manutenzione del comune di Arezzo. Così ha disposto il GIP Fabio Lombardo, di fronte al quale l'operaio si è presentato ieri mattina, accompagnato dai suoi legali per l'udienza di convalida. Il 59enne è accusato di tentato omicidio. Lunedì scorso, attorno alle 11, infatti, si era presentato negli uffici di viatagliamento. Aveva estratto un coltello che si era portato da casa ed aveva colpito alla gola il geometra capufficio, provocandogli una ferita lacero contusa che solamente per fortuna non aveva reciso le arterie che si trovano in quella zona. Dopo l'aggressione l'operaio si era dato alla fuga per poi costituirsi dopo un'ora ai carabinieri. Era stato così portato in carcere dove adesso resterà in attesa del processo come richiesto dal PM Roberto Rossi. Il pubblico ministero, anche alla luce dei precedenti dell'operaio che 25 anni fa colpì con le stesse modalità un altro collega, ha chiesto anche che sia svolta al più presto una perizia psichiatrica. Il comune di Arezzo intanto ha già avviato un'indagine interna per far piena luce sulla vicenda. Stanno infine migliorando le condizioni del geometra aggredito, ormai definitivamente fuori pericolo.